Le diverse specie di pesci di acqua dolce si distinguono oltre che per l'aspetto, anche per la preferenza di ambienti diversi, per la capacità di nuoto e per la sensibilità alle diverse pressioni antropiche. Inoltre, collocandosi al vertice della catena alimentare, gli impatti subiti dagli organismi ai livelli più bassi, come alghe e piccoli invertebrati, si concentrano e amplificano nelle comunità di pesci. Le alterazioni nelle comunità ittiche sono dovute spesso ad alcune azioni umane, come la costruzione di barriere artificiali, il cambiamento della forma e struttura degli alvei e delle sponde, l'inquinamento da sostanze chimiche, il riscaldamento globale e altro ancora. Per il monitoraggio dello stato ecologico delle acque, di fiumi e laghi, fondamentale per intraprendere azioni di ripristino o miglioramento delle condizioni naturali, è necessario raccogliere informazioni sull'abbondanza delle popolazioni, sul rapporto tra giovani e adulti e sulla diffusione di specie aliene.